Nella terra della pizza, beh, naturalmente mi viene in mente che posso veramente parlare della Campania, ma nella Campania ci sta qualcosa anche di più della pizza, che io non sapevo, la patata. Lei è il signor? Io sono Gerardo Gaudiano, sono l'unico non produttore di questa organizzazione di produttori di patate, rirappresento e mi sento responsabile. La Campania è stata, fino ad un anno o due anni fa, la prima produttrice di patate in Italia, quindi è una economia florida nella nostra regione e tra l'altro le nostre terre fertili producono patate che altre regioni acquistano e poi rivendono come proprie. Siamo qui proprio per rivalutare questo prodotto, che è molto richiesto anche dai paesi esteri, specie dal nord Europa. È un prodotto povero, ma principale nell'alimentazione umana oggi. Bisogna portargli valore aggiunto. Tra l'altro la nostra organizzazione è stata paurtrice, fortuitamente ha ritrovato uno dei nostri produttori 15 anni fa una varietà scomparsa, che era Ricciona di Napoli. I tuberi ritrovati erano totalmente vigosati, sono stati fatti sanificare in Scozia. Li abbiamo in riproduzione in valpusteria e quindi dall'anno prossimo ritornerà sui nostri mercati questa vicina di Napoli, che è una patata per antonomasia fantastica, perché nelle insalate, nell'accompagnamento della dieta mediterranea è il top dell'alimento. Che pasta ha? Ha una pasta farinosa e pasta bianca ed è idonea, dai, i nostri vecchietti se la ricordano ancora, ha un sapore unico e poi ha la peculiarità di mantenere una conservazione lunghissima senza utilizzo di sostanze chimiche. Quindi non c'è bisogno di antigermoglianti, si conserva anche per 12 mesi, rimane intatta. Quindi ha una conservabilità unica. E questo fu uno dei motivi principali per la sua praticamente scomparsa, perché con l'avvento di nuove varietà dall'Olanda, che abbattevano una serie di costi, quindi economicamente più vantaggiose, hanno preso il sopravvento. Però come tutta l'alimentazione, noi oggi ci alimentiamo con ibridi praticamente in agricoltura, abbiamo la bellezza, abbiamo la, però poi si perde il sapore. Noi stiamo cercando di riportare il sapore sulla tavola, assieme alla genuinità chiaramente. È vero, è vero, abbiamo questo ritorno un po' indietro, così come si fa la ricerca di grani, naturalmente che sono storici, evitando naturalmente anche pesticidi, anticrittogamici e tutto il resto, così stanno facendo anche per la patata. Sì, ultimissima cosa, se leggiamo un po' la storia, la patata nei tempi anditi era l'alimentazione della gente povera, dei produttori, mentre invece con il grano pagavano i fitti dei terreni. Quindi è un alimento necessario, essenziale. Ho visto che lei ha la tabella nutrizionale delle patate novelle, cominciamo a dire che cosa naturalmente, cioè non è che la patata non c'è niente. No, la patata principalmente è la vitamina C, nella misura del 45-50% del fabbisogno giornaliero di ognuno di noi. È indicata, anzi oggi viene indicata nelle diete anche per i bambini, e nelle diete alimentari stesse, perché con un utilizzo moderato aiuta praticamente con i carboidrati, con gli amidi, la digestione e quant'altro. Quindi bisogna ritornare alle cose genuine di un tempo. Ma quante ne esporta la campagna? Io sono rimasta allipita dal fatto che siete il paese, la regione più produttrice di patate. Sì, lo siamo stati fino a un anno, due anni fa, adesso c'è l'Emilia che ci ha raggiunto. Durante il periodo del calendario delle nostre produzioni, praticamente sui mercati internazionali esiste solo la nostra patata, perché praticamente arriviamo come primi nel raccorto italiano delle patate. Fino all'Affuccino, a Vezzano, in settembre e ottobre, poi cominciano i paesi esteri, Francia e Germania, si ritorna nella fascia nord africana-mediterranea, con Israele, Cipro, Tunisia, Marocco. In aprile, marzo-aprile, cominciamo a raccogliere noi con le produzioni sottosegra. Questo fa piacere, naturalmente. Comunque ricordiamoci la Ricciona o Riccia di Napoli, perché anche questa ritornerà nei nostri mercati, è giusto? Sulle nostre tavole, certo. Noi ricerchiamo, tra l'altro, io non so perché si chiama Ricciona, però con tutti quei buchetti che c'ha in quella, potrebbe assomigliare un po'. La tipicità, certo, la tipicità. Benissimo, allora facciamo così. Noi che siamo del casentino e della terra naturalmente retina, gli manderemo la patata di scetica rossa, che facciamo una produzione minima, piccola, ristretta. La nostra organizzazione di patate, Campania Patate, manderà la Ricciona di Napoli. Perfetto, grazie.